Telecom Italia, servizio automatico clienti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Parlando con un servizio automatico Il servizio automatico non può pensare Ho capito Risponda solo sì o no Le ultime bollette sono state pagate Sì È sicura? Sì Sicurissima? Sicurissima Rispondere solo sì o no È sicura? Sì Sicurissima? Sicurissima Rispondere solo sì o no Sì È sicura? Sì Sicurissima? Sì Se le bollette sono a regolare Sì 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 Sì